Bene mia cara, è pronta? Sempre Lo tiri su Ma qua davanti a tutti? Sì, sì, l'interruttore, la leva Ah, ah, la leva, comandi dottore Stanotte, noi ascenderemo nell'alto dei cieli Sfideremo il terremoto Comanderemo il tuono E penetreremo all'interno del grembo Dell'impervia natura che ci circonda Igor, quando ti do il segnale, chiudi il primo circuito Sarà fatto, padrone Pronti? Sì, dottore Via Chiudi il secondo circuito Chiudi il terzo Eh no, quello è meglio di no, padrone Chiudilo, ti ho detto, chiudilo Dagli vita Dagli vita, capito? Dagli vita, la mia creatura Dagli vita Volete sapere che cosa succederà se chiudo l'ultimo interruttore? Venite a teatro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.